Allora raga, ore 6 e mezza del mattino c'è il benzinero e poca altra gente in spiaggia. Questa è l'abitudine di chi si alza presto ad andare a lavoro, manco in vacanza riesce a stare fino alle 8 dentro le coperte. Oggi dobbiamo parlare dello scandalo, perché se è uno scandalo di uomo ballo touret, dobbiamo parlare delle solite boiate di Cassano che lanza la bomba, lui spara sentenze subito e ci dice chi andrà in Champions l'anno prossimo e chi resterà fuori. Ma prima iscrizione al canale, lasciate un pollice in su, pollice in su, l'agra è importantissimo, vi ringrazio del video di ieri di Rafa Leao che è andato alla grande. E quindi ripartiamo da lì, ripartiamo da un Rafa Leao che la società dichiara incedibile e comunque la società ha una linea chiara, o lanci 170 milioni di clausola o Rafa Leao non andrà mai via, quindi Barcellona 170 milioni per Rafa Leao non te lo darà mai, o non te lo darà mai neanche nessuno, perché non vale quei soldi. Quindi Rafa resta al Milan, può essere una notizia positiva se Rafa dà il massimo, se Rafa dà il 100%, perché sappiamo tutti che quando Rafa è in forma può fare la differenza. Può essere una cosa negativa se Rafa non dà il 100%, perché diventa un peso per il Milan, però noi facciamo tutti il tifo per Rafa Leao. Ieri, ieri, quindi attenzione perché sembrerebbe che allora il Barça va su chiesa, un chiesa che è appetitoso, io lo dico sempre, lo dico anche al Milan, un chiesa che è appetitoso. Per quelle cifre, certo ti costa l'ingaggio, però a quelle cifre io ci penserei, ma tanto sono sconsolato anche su quelle cose, perché sicuro chiesa al Milan non arriverà mai. Detto questo, su Cassano vi tengo sulle spine, le boiate di Cassano vi voglio tenere sulle spine, andiamo alla fine del video su quello. Balloturé fa saltare la trattativa col Saltetien, perché? Perché chiede una cifra spropositata, cioè chiede una cifra spropositata che già piglia al Milan, perché Balloturé sappiamo tutti che non vale 200.000 euro, è già un regalo se gliele dai a Balloturé. E questo mi fa rabbia, mi fa rabbia perché siamo ostaggio di giocatori scandalosi. Cioè, io dico va bene, va bene i soldi, ma vi piace guadagnargli non facendo niente? Cioè, non pensiamo che comunque un calciatore come tale dovrebbe piacergli essere protagonista, giocare, farsi vedere, boh, io non lo so, io, vedere giocatori che stanno anni e anni in panchina a guadagnarsi soldi, mi sembra. Detto questo, chi ce li ha portati è anche colpevole, però non butto una croce perché chi ce l'ha portato mi ha portato anche Teo Hernandez, Mignan, Rafa Leao. Cioè, se abbiamo giocatori di valore, ancora di grande valore, è ancora merito di chi ci ha portato. E non voglio fare i nomi. Certo che, però, Balloturé è una piaga sociale. Tu sei una piaga sociale. Ballo, sei una piaga sociale. Tu sei una pustola, sei veramente qualcosa di scandaloso. Rifiuta perché? Perché vorrebbe andare in Premier o comunque vorrebbe il grano che prenda il Milan, che non glielo dà nessuno. Nessuno che capisce di calci. Anche gli arabi gli danno, manco gli arabi ti vogliono, Ballo, manco loro. Pensa quanto fai schifo, che non ti vogliono manco gli arabi. Detto questo, attenzione, è arrivato Cassano. Io, quello che mi chiedo io, raga, oggi purtroppo i web, per farti notare, devi raccontare minchiate. Devi raccontare che il Milan farà il triplete. Devi raccontare come fa Pazzini Cento. Devi raccontare che siamo la squadra più forte del pianeta, come fanno altri. Devi raccontare minchiate come fa Cassano. Cioè, Cassano, se non racconta minchiate, non ne parlerebbe nessuno di questo qua. Perché? Perché da calciatore era bravo. Se sapeva, si è bruciato, però sapeva trattare il pallone. Ma da commentatore non vale niente. Vale zero cosmico. Allora, visto che racconta minchiate, i giornali dicono, avete visto cosa ha detto Cassano? E lui solo così può farsi vedere. E cosa dice Cassano nella trasmissione con Lele Adani e i suoi amici? Viva il football! Cassano dice chi andrà in Champions l'anno prossimo. Aprite bene le orecchie. E qui lì capite la minchiata. In Champions l'anno prossimo il campionato lo vince l'Inter. E lì posso essere d'accordo con lui. Anzi, sono d'accordo con lui. Però attenzione alla Juventus. Che lui non vede. Che lui non vede. Perché vede? Atalanta. Ci può stare. Napoli. Che crede che non farà fatica. Io dopo la prima credo che se non arriva il mercato di Conte, Conte prima della fava dei morti se ne va. Se poi arriva Lukaku e i giocatori che chiede Conte, allora avendo solo il campionato posso anche dargli ragione. Comunque, Atalanta, Napoli e Roma assieme all'Inter. No, ditemi voi se la Juventus e il Milan resteranno fuori dalla Champions. Io vi dico che è la solita bomba per sentirsi vivo. Così ne parlano di lui. Però mi sembra assurdo che una Juventus, se dovesse fare Nico González e Koppmeiner, resti fuori dalla Champions. Come vedo assurdo che un Milan, con i soldi che ha investito, piaccia o non piaccia, rimanga fuori dalla Champions. Se il Milan rimane fuori dalla Champions, a Fonseca lo devono impalare. Perché io sono molto critico sul Milan. Però una squadra che arriva seconda all'anno scorso in campionato, con Stefano Pioli, e prende Fofanà, e prende Morata, e prende... Quindi si rinforza leggermente, perché si rinforza leggermente. Non abbiamo fatto il salto di qualità. Lo sapete benissimo che non abbiamo fatto il salto di qualità. Solo gli struzzi, quelli, gli aziendalisti che mettono la testa sotto la sabbia ti dicono che abbiamo fatto un grande mercato, da 8, da 7, sparano cifre inaudite. Abbiamo fatto un mercato da 6 e abbiamo leggermente rinforzato la squadra e dobbiamo valutare come saranno Pavolic e Fofanà. Se faranno grandi cose abbiamo aumentato la nostra forza. Ma di certo non mi vedo fuori dalla Champions, come dice Cassano. Perché sarebbe fallimento e non è una squadra che deve rimanere fuori dalla Champions. Se mi dite la Roma, la Roma cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Perché Cassano ci dice che la Roma resta in Champions e noi no. Visto e considerato che probabilmente venderà Dybala e che alla prima ha fatto schifo quanto abbiamo fatto schifo noi. Quindi per me Juve e Milan in Champions ci vanno sereni. Dopo vedremo. Sarà il campo a parlare. Però mi sembra che Cassano spari un po' troppo. Spari un po' troppo. E per finire il video devo dire una cosa, una cosa che mi ha impressionato. Mi ha impressionato davvero. La facilità che ha l'Atalanta a fare mercato. Nonostante le difficoltà, nonostante ci siano giocatori che se ne vogliono andare, ma l'Atalanta si sveglia la mattina e dice «Toh, voglio un Bellanova». Pam, piglia Bellanova. Ah, voglio un Brescianini. Pam, due giorni piglia Brescianini. Cioè l'Atalanta è l'unica squadra in Serie A che quando fa mercato non ci tiene un mese e mezzo. Va, punta un giocatore e lo prende. Ma la cosa che mi piace dell'Atalanta va, piglia un giocatore, lo prende ed è italiano. Perché gli italiani sono forti. Non fanno schifo. Non ti viene l'orticaria se prendi gli italiani. Gerry, non ti viene l'orticaria. Intanto vince 4-0 a Lecce e farà un grande campionato senza chissà che soldi. Cioè vendendo Copp Miner, vendendo Lukman. Io vi dico che sarà ancora lì. Sempre forza Milan, ditemi la vostra iscrizione al canale.